Io non appalto la sicurezza del mio paese a delle ONG di fuorilegge e che si vantano di essere fuorilegge, perché io leggevo nei giorni scorsi con stupore che questa comandante di questa nave è lì perché è nata bianca, ricca e tedesca. E non è che tutti quelli che nascono bianchi, ricchi e tedeschi devono venire a rompere le palle in Italia, possono fare anche altro nella vita e se sei nato bianco, ricco e tedesco vai a lavorare, vai a fare volontariato, vai a fare servizio civile, non rompi le palle fuori da Lampedusa. E mi domando io anche il governo tedesco come possa permettere il fatto che una dice sono bianca, ricca e tedesca e me ne frego delle leggi italiane, è veramente una questione di principio.